Buonasera, buonasera, buonasera. Le persone che più amano nella mia vita sono i miei nonni. A mia nonna gli ho aperto la pagina di Facebook, si chiama La Cubana, perché è un metro per un metro per un metro, un metro cubo. Abbiamo pubblicato le foto di Carnevale che si è vestita da Arlecchino, l'hanno scambiata per il cubo di Rubik. Lei quando cucina, frigge qualsiasi cosa, c'ha la stecca dell'olio della macchina, controlli, c'è la tannica. Mia nonna ha detto che quando muore non vuole essere cremata, vuole essere fritta. È sposata con mio nonno da 60 anni. Mio nonno è una persona, guarda, eccezionale, solo che lui interpreta le notizie così. Aveva sentito parlare di queste caramelle blu, era convinto che le vendevano al punto blu. Si è presa la macchina e è arrivata al primo punto blu. E' entrato, c'era l'impiegato, ha detto, senti, ma andate a fare una di quelle cose per alzare la sbarra. Un telepass, un telepass. Senti, ma come funziona? E niente, tu lo metti nella macchina, non devi fare niente. Quando ti serve la sbarra si alza da sola. Guarda, te la mani di te che stasera mia moglie ci faccia fare in giro tutta la Sicilia. E' uscito con queste tre telepass, è arrivata a casa. Mia nonna quando l'ha vista è detto, sei fatto la macchina, ma quanto ne hai preso? No, ce ne ho preso. Ma come funziona? Non devi fare niente, lo stavi. Le metti nella macchina, quando ti serve la sbarra si alza. Che mia nonna gliel'ha cucita nelle mutande. Noi ci abbiamo le telecamere. Il mio cugino ha detto, collegate con la casa del nonno. C'era mia nonna a petto luto, con tre mutande. Qua tre telepasseranno le mutande. Mia nonna lì fa, rimane paccheggiata che mette in moto. Ci sta arrivando. Pipì, pipì, pipì. Dopo venti minuti mia nonna ha detto, sei fatto la macchina che fa? T'hanno fottuto i soldi. Fa no, forse non c'è campo, non funziona. Ci hanno fatto tenerezza, abbiamo raccolto i soldi, gli abbiamo regalato le confezioni di piaga, quell'originale. Mia nonna si è seduta a mangiare alle 22.30 alle 16 del pomeriggio. Sono seduta a tavola, mia nonna si è messa un filo di rossetto e due gocce di cianello numero due. Lo diluisce con l'olio, dice che ancora è buono. Sono seduta, mia nonna si è messa le pastiglie accanto al piatto. Guardava mia nonna un pezzo di pane e una pestella di piaga. La focchetta di insalata e una pestella di piaga. Un pezzo di carne e una pestella di piaga. Alla quinta pestella di piaga il tavolo faceva così. Che mia nonna ha detto, oddio, ci sono gli iscritti. Dove? Che me le hai fottote tutte. Per farla breve l'abbiamo dovuto ricoverare in ospedale. Mia nonna ha detto, minchia, ora che sta bene in ospedale ve lo portate. Grande, Francesco.